Debora sei, no? Chi è Debora Nania? Eh? Sei tu? No, non sono io ma è dietro di te. Siamo con Debora Nania, una famosa, una protagonista del Carnevale di Venezia. Quarant'anni quest'anno che partecipo al Carnevale di Venezia. Le tue maschere sono molto facilmente identificabili perché hanno uno stile molto particolare, no? Io non ho mai seguito il tema che viene imposto dal Carnevale perché quando viene data la notizia del tema è sempre troppo tardi per cominciare. Quindi il tema me lo sono sempre prefissato lì, il tema o di, non so, arabeschi, mare... Oppure quest'anno non c'è un tema, non ho dato un tema, però ho seguito la tonalità unica per i cinque costumi di quest'anno. Adesso sono in cinque, sabato arrivano altri quattro personaggi con costumi sempre in tinta di viola, ametista, insomma per fare un pandà. Ho capito. Ecco tutto perchè alla domanda Ruth Travevo 얼 Urm Travevo Travevo Ciunde Travevo Ciude Travevo Pedra ImpegCA ImpegCA Grazie a tutti.